Siamo ormai nel pieno della stagione estiva. I microfoni di Teledeon hanno raggiunto il sindaco di Bicelli, Francesco Spina, che ha commentato il calendario degli appuntamenti in città. Sindaco, prosegue l'estate bicelliese. Come sta andando e quali saranno i prossimi eventi? Un evento molto importante è quello che esiterà nell'area portuale sabato e domenica, mercanti nel Borgo Antico. È un evento culturale di assoluta importanza perché in tema medievale con i falchi e la falconeria che è presente per far divertire ma anche per dare un toro suggestivo a questa area portuale completamente riqualificata, delle mura messe a nuovo con le nuove infrastrutture di tutto il porto turistico e devo dire anche peschereccio molto caratteristico della nostra città. Quindi si tratta di un fatto di straordinaria importanza per quello che riguarda la promozione culturale che vogliamo valorizzare con tutti gli artigianati della città, del territorio, della Puglia che vengono qui a mettere in esposizione le tipicità, non solo quelle alimentari ma anche degli altri prodotti artigianali della nostra terra in un contesto che diventa molto forte, intimo, diciamo di identità comunali e locali che si vanno ad assemblare in una logica di sviluppo ma anche di tradizione da proporre per le future generazioni. Quindi davvero un evento bellissimo, ne abbiamo tenuto un altro qualche giorno fa sempre nell'area portuale, significa rivitalizzare il porto e significa soprattutto dare la possibilità con quegli sgravi fiscali che stiamo proponendo di insediamenti delle attività commerciali e produttive proprio in quell'area portuale per rivitalizzare non solo il commercio ma anche per dare sicurezza, dare luce perché dove c'è attività commerciale c'è occupazione e c'è luce. Dobbiamo aiutare i commercianti e stiamo facendo questo proprio nell'area portuale con delle iniziative ad hoc ma anche sollecitando investimenti importanti negli operatori del settore. Qual è stata la risposta dei cittadini? I cittadini sono contenti, al di là delle logiche che vedono sempre, diciamo, c'è qualcuno che deve fare opposizione, viva Dio si tratta di un'opposizione che oggi anche grazie ai sistemi informatici, l'attenzione della stampa è sempre ben presente ma se rapportiamo le criticità sollevate, devo dire come quella di un grande evento tenuto in piazza che ha dimostrato solo grande successo e nessuna veridicità delle preoccupazioni che venivano palesate qualche giorno prima sulla tenuta del pavimento di piazza Vittorio Emanuele o su alcuni disagi e danni durante questi grandi eventi da tenersi in centro beh, devo dire che la città risponde con una legittimazione forte al sindaco che in pratica di fronte a qualche volta la pochezza delle proposte delle opposizioni o l'assenza di proposte dimostra di essere l'unico punto di riferimento in cui i cittadini nel bene, qualche volta anche con le critiche nel male, hanno fiducia e quindi è giusto che sia così il sindaco deve essere il catalizzatore soprattutto delle criticità, poi della sua coscienza va avanti nella sua strada perché questa è un'estate splendida che costa solo 200 mila euro e che porta tanto tanto a luce e tanta tanta qualità culturale, sociale ma anche di carattere promozionale sul piano turistico per la nostra comunità bicegliese